Io avevo solo sei anni e mio fratello Luciano 13. Mio padre ha lottato come un leone a mani nude, fino all'ultimo colpo, il quinto, quasi in bocca. Sono molto onorata di essere sua figlia e la mia cittadina è molto amato. Mia mamma amava il generale dalla chiesa e ricordava sempre con gratitudine che era venuto al funerale di papà, senza foto né interviste, solo per vero interesse. Papà aveva 51 anni e a gennaio sarebbe andato in pensione. Dopo la sua morte lo hanno nominato vicebrigadiera all'onore. Simona dalla chiesa ritirò una medaglia per il loro padre lo stesso giorno che mia madre, neri smacchioni, le ritirò per mio padre a Roma. Lei aveva 37 anni quando papà morì. Ora io non ho più nulla. Le medaglie, le croci all'onore, riconoscimenti, nulla. Hanno rubato tutto durante un furto in casa. Ho pianto per una settimana. Hanno rubato l'onore di mio padre, hanno rubato la sua storia, la sua vita. Sono cose preziose che non potrò più riavere. Persino il suo orologio lo indossava il giorno in cui fu assassinato, era ancora sporco del suo sangue. Mamma lo teneva come una reliquia, insieme all'anello di fidanzamento, la fede, i berretti della divisa, tanti ricordi che non torneranno più. Mammina non si è più ripresa. Nel 2016 è morta per un problema al cuore. Il mio cuore era loro, di mamma e papà.